Già è difficile pensare ad un paese in cui la campagna vaccinale viene gestita in maniera diversa da regione a regione. In Veneto abbiamo addirittura campagne vaccinali diverse da ULS a ULS. Continuano ad arrivare decine, centinaia di segnalazioni di persone che si aspetterebbero di essere vaccinate e che non vengono vaccinate. Serve un'inversione di tendenza, serve da parte della regione una regia chiara. Servono regole definite che siano uguali in tutto il territorio del Veneto. Facciamo quindi un appello alla regione, al presidente Zaia, perché la preoccupazione sul territorio, la preoccupazione dei cittadini che si aspettano di essere vaccinati sta crescendo.